Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono sul canale di Ulisse ciao mi spammo mi spammo Ragazzi spammo lo sul canale ok perfetto allora se potete abbiamo lasciato questa cobre son tanta cobre Sto scherz a cuocere Perché gli esce un pg8 Guarda finisce Guarda finito finito Oh 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 che stai facendo qui Eh lo so che si spegne da sole ma dai 8 per 8 fa 64 Mamma mia Allora abbiamo fatto un sacco di stone ma un sacco davvero di stone La questione è che qui è rimasto un carbone perché Uli? L'ho messo io perché non ce la faceva perché è sbagliato Bravo bravo 10 punti a grifondoro Ok no Ok Serpe verde tu sei di serpe verde bravo bravo Ok facciamoci un sacco di stone Non dimenticare corvo nero che è proprio inutile la casa più inutile Ma davvero si Cavolo stavo a fare il cronino lì E poi ce n'era anche un'altra che non mi ricordo il nome penso Eh tasto rosso tipo Tasto Nessuno se li è mai cagate davvero Ma cosa servono? Non si sa vabbè Davvero non l'ho mai capito Anzi voi voi tipo avete mai capito perché Non lo so a che servono proprio inutili proprio Ma aspetta no sta usando una coppia Aspetta ma questi brick dove l'ho preso io? Questi sono Oddio Uli mi sono perso Ah beh sto facendo di stone brick perché mi servono Sono troppi Fai i factory block che dobbiamo riempire qua Allora aspetta lì cominciamo Sì aspetta il ferro l'ho messo a cuocere Quindi va Eh sa Tieni una più Ah quindi devi riempire però Aspetta porca Sì la riempiamo di brick Tu fai le scale Tu fai le scale Io faccio i brick sui muri Sui muri Aspetta e sì Magari però Sulle pariti E al contrario che belle Belle si scale Ok mi serve i cobblestone Ce l'hai cobblestone? Sopra sopra nella cesta Quella sulla tua Sì nella destra Eh quanta Nice Ok E' quella che hai lasciato per terra tu Perché tu la lasci Cioè giusto Prima la lascio e poi la cerco Che cazzo del soggetto Pure te Uli diventi a far video con gente del genere Come ti dice il cervello Io non lo so Guarda Niente proprio Non me lo dico Ok ok Guardiamolo Flash ban Pikachu Lo sai che vedo che tra la lista dei bans e Cinchu Cinchu? Sì Perché cosa? Perché mi veniva sempre in casa L'ho trovato una volta che stava rovinando l'orto di casa L'ho bannato Bravo hai fatto bene È un cojone E uno rompe le palle Sai che non l'ho più trovato da quel giorno? Non so se l'ho bannato davvero Ci sarà rimasto male Ci stai lavorando E beh anche C'ho tipo tre stack di scale ancora un momento Eh io ho tipo finito Ah no cazzo Pensavo me li sostituisse automatico Beh fai fai Però che basta Scala al massimo le tenco Tanto devo fare comunque dall'altro lato pure Ragazzi Uscirà una caverna Stroppi Sì vedrai sul fondo Vedrai in fondo che faremo Mamma mia Io già ho big progetti nella mente Oh perché qui è buio? Oh lì le torce Eeeh Metto io Metto io Metto io Metto io Ok sto buttando Metto io Metto io Metto io Ma siamo arrivati alla fine Bravo Siamo arrivati Altezza 6 Più in basso di 6 Penso che non si possa andare Questo coal Tipo lo voglio Mio Eh si sta sopra il coal Non l'ho preso perché tipo Stavo sopra Stavo camminando No però questo diventa troppo alto Aspetta Aspetta mi sono perso Ok adesso Eh devi scendere con questo Eh tipo così vero? Dovrebbe essere questa l'altezza Sì più o meno Avevamo il coal Mettiamo le torce al centro Proprio al centro delle cose Ogni cosa Ma io direi Sì però adesso le torce Poi mettiamo le redstone lamp Sai che sfiga Le redstone No A proposito Ma La chisel fa quello che sta per le lampade Oppure che ne dici Mettiamo il redstone block C'è un redstone block Che sono fighissimi Tipo Che fanno luce Sì doveva far luce Aspetta io C'ho del Aspetta che cerco C'ho questa qua Ti serve? Tiè Questa potrebbe essere utile Non so se posso farci qualcosa con la closton Faccio la closton lamp E la lampada non può essere No non cambia È inutile Peccato perché ci sono Comunque hanno aggiunto un sacco di blocchi nuovi Nella nuova chisel Ah sì? Ma è uscito l'1.7? A proposito Eh sì a proposito È uscito l'1.7 E il problema è che ancora manca la ney Per l'1.7 della pixamon almeno Perché restante c'è uscito tutto Quindi Se esce la ney ragazzi Aggiorneremo E saremo sempre al stesso mondo Quale è la parte bella? Cioè si può aggiornare senza perdere il mondo? Ficata? Sì perché Non hanno Non hanno cambiato nessuna p Non hanno cambiato niente Il tizio Il creatore Sì chiamo sempre tizio Bravo 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 Infatti lavorano loro Eh ma se ti faccio anche io blocchi a questo punto Quali blocchi stai usando? Ma fai quello che ti pare Quelli Quali sono gli small cobblestone brick? Ehm Sono i Aspetta te lo dico subito Ehm Cobb Small cobblestone brick Ok Te li do io scusa C'erano tantissimi Dove sei? Vabbè vabbè ho fatto Minecraft Spacca Spacca Piazza Piazza Distruggi Costruisci Smonta Io gioco a Minecraft Ok si Anzi per esempio Cioè ho chiesto ai ragazzi Tu giochi a Minecraft Tu giochi a Minecraft Io gioco a Minecraft No io non gioco a Minecraft Io gioco a Minecraft Bravo Vedi 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 I drogati giocano a Minecraft I drogati di Minecraft Mmm A proposito Voi pensate ci sia qualcuno drogato di Minecraft Nel senso Che giocassi molto a Minecraft Troppo Che Che Perché lo stai dicendo mentre ci sono io? Ma perché Voi così a caso Io rivolgo sempre a voi Zero proprio Mamma mia Mamma mia Siamo solo perché Ulisse è diventato il primo di Tom's Se crede sto cavolo No Ma ora sono io il primo di Tom's Cos'è? Siamo a giro? Sì Ok perfetto Ok perfetto Siamo arrivati in fondo Non ci credo mai Io sono arrivato fino in fondo Mamma mia Prende forma Mi si è rotto Cosa? Piccone Ah ok Pareva brutto detto così Mi si è rotto il coso Che cazzo Eh sì Ok Perfetto Qua dobbiamo finire ancora Aspetta Come sta Ah Merda Che ti sei perso Dice Dice Uso piccone di diamante Chi se ne fregava Piccone di diamante addirittura E tanto Tanti diamanti L'ho trovato Da trattini C'è Ah però Poi si è stato Da trattini Io ci sono andato Non ho trovato un cazzo Ho trovato solo Magicarpa di merda Io quel giorno Ho trovato un trattini Tre diamanti Quindi tranquillo Ma io ho detto Vado lì Vado lì Becco Coggiolti Non sono andato Ho detto Ah bello Vado con Gioti Non lo X Tu prendi i diamanti Non c'è una cazzo Magicarpa a 10 Sì Ho trovato quel giorno Vado lì Trovo trattini Tranquillo Prendo i diamanti In due secondi Ok In questo posto Vado nella jungle Mi esce Un nuovo pokemon Leggendario Sponato Vabbè Andiamo a trovarlo Dopo due secondi L'ho avvisto New Faccio Oh guarda che bello New Prima faccio così Mando Charizard C'è anche per Charmellion Ancora Ucciso Ok perfetto Ma si Ma andiamo a Grotl Bum Ho ha shottato anche lui E vabbè Rimane il Collet Da solo Collet Per favore Salvami Non uccidermi Non voglio morire E allora faccio Vabbè dai Lo faccio scappare Scappa E ci provo così A prenderlo E tranquillamente Divo Bum Prima Ultra Così pregando L'urlo che mi è uscito dopo Quando l'ho preso Bum Preso Ok Va bene Ho tanto culo ragazzi Tanto Ok Va bene Facciamo finta di niente Dopo sei stato 5 episodi E trovare un Eve È andato Sì Più o meno Eh ma vedrai il mio Joltan Che te lo spacca Il tuo Mew Eh vabbè Mo aspetta Dammi il tempo di poterlo usare A proposito ragazzi Mi hai detto Visto che non lo puoi usare Almeno ti tenerò con te Moverete Sì sì Poverino Mimì Mimì Non morire però Ah Mi trovo di Joltan Già già Fa casino questo poca Non mi piace Fa troppo macello Ma poi usci fuori di Joltan Ma che mi rappresenta Ma che cazzo di versione Eh Joltan Eh beh Eccolo Mimì Almeno Pikachu fa pica pica Questo fa Joltan Ma che è Eh ma quello dice Mimì Cioè Mimì 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 di Joltan Cavolo Ma ti chiami da solo Sei stupido Che non ti ricordi Come ti chiami Che cavolo Non lo so Eh beh Giusto per ricordarlo solo Eh non si sa mai Ok Eh aspetta Com'è Aspetta qua Ah Sali metti i blocchi Dove? Qua Eh ah ok Qua hai già fatto Si sto riempiendo piano piano Eh ok Con molta calma E volontà E pazienza E giaggine Ok Però è fighissimo Dove vedere Ciao No no New Questa è la nostra miniera Stiamo morendo Oddio guarda che figata No Uli devi venire sopra A vedere che figata Vediamo Vediamo Vieni viene Perfetto Ma io di così non puoi No bello Bello ragazzi Che figata Stiamo a vedere Tipo allarme Allarme Non scendere di qua Ti facciamo al centro Il minecart Scende Al centro il minecart Che scende Vai spacca tutte le scale Ok perfetto E che sale anche Ok ci serve l'oro Andiamo Ce l'hai l'oro Quanto oro c'hai Eh Una merda Eh ne vengono fuori tantissime Vengono fuori mezzo stack 16 mi pare O 32 Mi sa Ne ho 6 per ora Ho munto tutto Aspetta po' Dovremo farci Non si chiamano rail No track Non si chiamano track Le rail Le rail sono quelle di Ah no 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 Le track è con la railcraft Le railcraft Sì sì Eh Siamo vituati troppo Ma no Niente proprio Io devo scendere così Pian piano Guarda la coppia Che salta A caso Il cobblestone che salta Sì c'è una cobblestone che salta Non so perché Ce la prendo Perché la poveretta È depressa La cobblestone depressa salta Più che altro va ripassata Sto cosa al centro È brutto Ripassiamolo con la stone Tipo sta terra Vedi brutta Quale? Qui c'è della terra Via Ok Ok Intanto a casa mi c'è qualcosa Che esplode Non capisco cos'è Mi sarebbero altri blocchi Di quelli Comunque nel frattempo Quasi finito Eh sì Quasi finito Blocchi di cosa? Eh Aspetta Ma come quasi finito? Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho C'è tutto Ce penso io Tranquillo Io costruisce Io fa Ah no no Tra tutti i blocchi Tra tutti i blocchi Io e lavora Io e costruisce Che parli così In questo modo strano Perché io 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 sì Io muratore Ok Io muratore Ok Ok Mi muto due secondi Abbiamo perso Ulisse Oddio è tutto buio Ragazzi non vedo niente Oddio quanto può essere buio Ok un po' di torce E Ulisse l'abbiamo perso Ciao Ulisse No no ci sono ci sono Ok è tornato Ulisse Pensavo tipo una cosa bella Eh tipo C'erano i Miner Tipo Quei Quei cosi Una mod tipo figa Che ti mette I minion Tipo che lavorano per te Comunque a farsi A pensarsi i blocchi Sembra che sono i tamburi Non so Sembra un tambur africano Oh quanto ci vuole ancora Ah io ho praticamente Fini giudo Eh io no Ancora finendo qua Eh Ulisse Mi sa che hai fatto di un blocco No è vero Non hai fatto un blocco niente È giusto È stato preciso Più o meno Più o meno Più o meno Sì è giusto Vai 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 Quasi finiti i blocchi Dove sei dove sei Dove sei Dove sei Dove sei Arriva 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 Aspetta riempio lì Ce l'ho io i blocchi Tu non preoccupa Io i blocchi Oh vale Io spaccamuro Finito Eh Impasta cemento Spacca pavimento Finito Finito Vai Vai Ma troxa Bello Bello Ok Manca poco Manca poco Sto riempendo tutti questi Bucchetti rimanenti Vabbè Ma giù Il buchetto L'ho lasciato Aia Che buchetto in giro Quella Guarda un po' negli angoli Se è rimasto qualcosa Mi sembra tutto pieno Eh Vado sulle scale Eh più che altro Servono un po' di torce Pio sai Dove Arrivo Oh Fatto Ok E Vediamo un po' di qua Sembra tutto pulito Perfetto Mamma mia Detta miniera Bello 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 Ok Ok guarda che figata Ok guarda che vado Si vede pure giù Si vede Torce 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 Faccio subito Faccio subito Faccio subito Faccio subito Stick Stick non ce li ho Ce l'ho io 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 Aspetta Hai vero io C'è un sacco di senso Non ancora Per farmi giro Che ci posso puntata Ok nel frattempo Abbiamo finito Poi posso arrivare Le varie ste cose Cosa? Eh le fornacce Quanto ormai Penso che per ora Non servono Poi in fondo Faremo tutto scavaggio Pesante e cattivo Intanto Piazzo torce Ottimo Torciando tutto Tutto alluminato A posto Eh ti lascio un sacco Di blocchi qui dentro Quanta roba Ok sta roba preziosa La mettiamo in inventario Perché qualcuno Viene a casa E mi fotte la roba Eh chissà chi è Mi fotte tutto pure il cibo No 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 Non sono stato io No 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 È stato quello Che inizia con le L Vero? Esatto Sì sì Esatto Quello nel server Che ruba tutto Anche ship No no Non si fanno queste cose Mi ha sfidati Mi ha sfidati Poi vedrai No no Non si fanno proprio queste cose Allora Questa dovrebbe essere All'inizio della nostra maniera Che dici la prepariamo? Facciamo tipo una traccia? Dove sei? Ci credi che non ci vedo niente? Mi sa Vieni qua Vieni sopra Vieni sopra Vieni sopra Vieni sopra Sta Sta A me io voglio l'oro Voglio fare le rotaie che camminano Dove sei? Non ta regge Non ta regge mai No Muore Muore un isse Asso di soggetto Aspetta 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 anch'io Anch'io Prendo Prendo Geridos Prendo Geridos Aspetta Voglio farlo anch'io con Geridos Fermo Altro che Oh no Sto morendo Oddio Dove va Geridos? Me l'ho rubato Geridos Vieni qui Ah io stavo morendo Che sa Non è una bella cosa Io c'ho Geridos Ora non sento più alto Forse è un'ottima idea Eh c'ho Geridos Incastrato qua dentro Oh esci fuori Eh Geridos muore Sta morendo Lo sto spingendo giù Perché scende? Perché scende giù? Fermalo Perché sta scendendo? Come lo fermo? Fermalo povero Ciao Geridos Ciao Geridos è stato bello No piccolo Geridos Scendi da lì Scendi cattivo Geridos Esci fuori dal terreno Lo sai che non sei un po' con d'acqua Non di terra Stupido Se la sente molto Onix Il mio Geridos Vabbè Ok perfetto Vai iniziamo Abbiamo finito Abbiamo finito Abbiamo finito Sì è troppo bello Qui c'è di cazzo Però io vedo tutto nero Non so te vero Eh sì la fog Allarghiamo un po' l'ambiente Aspetta però Aspetta aspetta Non togliamo la stonda sopra Ok Che bello da vedere così Però dobbiamo farci le track Allora aspetta Quanto oro abbiamo? Io ce ne ho sei Ok Ecco oro Ho appena trovato Ok prendi tutto Prendi tutto Che mettiamo a cuocere Seve oro Cos'era Aspetta no Track o cosa? Track No aspetta Rail 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 Ok Powered rail Ragazzi Ah ok Lo stick mi serve Eh hai degli stick Perché ho la legna Ce l'ho Ah ce l'ho ce l'ho Cioè sia stick che legna Oh c'ho mezzo cosciotto Mele 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 E poi in Italia Non servono tutte quelle Ah beh sì Facciamo tutto in oro Eh per la salita sì Sarebbe la cosa migliore Eh ci vorranno eternità Però parlo di tutto Eh calcola Ce ne vorranno Quanti so Che attesta stai? Guarda l'altezza 50 Eh sono 45 rotaie Sono 16 32 48 3 craft Eh ok Guarda io ce lo sei già Eh aspetta però Come facciamo poi qua? Poi qua dove? Eh è arrivato in pianura Non c'è più bisogno Mettere le track normali Col ferro Aspetta 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 Non dimentica la redstone Eh ma come facciamo? Se facciamo un dock di redstone sotto? No ma ci sono mille modi sotto Uli Non è quello il problema Il problema è Te lo faccio subito Guarda ti faccio vedere Ti faccio vedere Ti faccio vedere Io voglio fare cose fige Eh allora guarda 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 Vai così guarda Guarda semplice Guarda 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 No ma così è brutto Sì ma io vorrei fare cose fige Ci puoi mettere Oh te metti Ok vai metti la rotaglia Vedi che è acceso adesso Metti la rotaglia Metti la rotaglia No no arriva fino lì Arriva fino lì vai Tira 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 Mettiamo centrale 13 blocchi mi pare che c'ho di raggio Tutto qua Eh 6 ne ho fatto E vuoi da me Ok è noto A posto GG nice Ok Fai altre track Ah ne escono 6 a craft Eh sì non so Ho letto 16 Eh sì ciao Sì Non sono le rail Le track scusa Ah quello di ora non esce di meno Che schifo Sì E allora dobbiamo scavare qua sotto Uli vieni in fondo va Già ho trovato dell'ora Adesso ne troviamo altro Vieni vieni Diamanti 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 Ah a parte i diamanti Sì sì no più che altro Adesso dobbiamo prendere un attimo le misure Allora io ti devi faccio Ah questo posto ok Perfetto Ah qui c'è la prima scalinata Che sali Giusto Eh quanto deve essere alta Dimmi un attimo come fare 3 Alto 3 No ho finito il piccone Dammi un piccone Eh non c'ho un piccone No aspettate Allora lo ripasso Deve essere largo 3 Lo ripasso Lo ripasso Aspetta eh Ok cosa devo fare così Devo fare giusto Ah no aspetta No 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 Qui devi salire Aspetta C'è la stone Usiamo la stone Bello Dovrei avere della stone Ce l'ho io ce l'ho io Togliti ce l'ho io Ce l'ho io Ce l'ho inventario Ce l'ho inventario I need a pickaxe Con il diamante Andando andando Aspetta 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 Mi serve una crafting table Dove sta Me l'ho rubato la crafting table Lo vedi Uli è colpa Ah no eccola qua Cazzato Ho buttato il zenito Allora mi serve Ferro Eh tieni Ce l'ho ce l'ho ce l'ho Ce l'ho ce l'ho Sali qui sali Spacca su Allora questo è il primo ripiano Altezza 3 giusto Siamo a 3 d'altezza Eh no Siamo a 9 adesso 10 No aspetta 3 in senso 3 da sotto Si 3 1 2 3 Allarga tutto Apri il soffitto Apri tutto qui Spacca tutto Dai spacca il soffitto Anche qua Sì Alzalo tutto Alza tutto Non deve essere grande Eh devi andare ancora più su Quindi devi salire sopra Scavare pure sopra Ora Eh Infatti la cosa migliore Sarebbe scavare dall'alto E andare verso il basso Comunque intanto prendiamo le misure E poi partiamo dall'alto Eh sì perché poi Infine questo possiamo farlo Quando vogliamo Che praticamente sopra Deve essere Eh no qui Qui deve rimanere No aspetta Qui deve Sì ok così Scava scava Giusto Fai uguale di qua Fai uguale a quello che sto facendo È un po' più alto Mi sa no Fai uguale a qui E qui si sale Qui ci deve essere un'altra scala Che va su Ah più piccola diventa Poi da No sotto è piccolo Sopra si è larga Eh aspetta Aspetta Poi c'è un problema grave Non ho capito una cosa Non ho capito Qui deve essere uguale Fai uguale Fala uguale Qui è sbagliato Non è così Così è più alto Ecco Così è uguale Ecco Ti faccio rendere conto Con i tunnel Così ti rendi conto Qui c'è un tunnel Qui c'è un altro tunnel Ok Ci stai fino a qui Dovremmo scavare un sacco E vanno fatto Un sacco Un macello Magari un sacco Vabbè dovremmo scavare un sacco Prima che cosa Come fare queste scavate scavate Uh si ho un'idea Le scavate Tutte velocizzate Tutte scavate velocizzate Con la musica Tipo Tunz Tunz Esatto Sarebbe una cazzissima idea Allora Un'unica cosa Si qui dobbiamo andare ancora più su Quindi scava Andiamo su Ah ancora più su Wow È il terzo piano Seconda cosa Tipo così Spacca al centro pure Frammette Vai vai Spacca tutto Spacca tutto Smacella tutto Sopra anche Oh Ah Ok Ah Ha scalinate verso l'alto All'esterno le scalinate Vedi com'è Vedi com'è Vedi com'è Qui ci sarà un'altra porta Figo Qui ci sarà un'altra porta qui Questa è l'entrata di un'altra miniera Ah ok Quindi pure il quadro Ah ok Rompi tutto Rompi tutto Rompi tutto Rompi tutto Rompi tutto Guarda il ferro Vedi la roba moto Vedi la roba che trova Ok Poi troviamo la roba buona Ok Che la miniera deve essere Diritta per di qua Di là non devi scavare Così Sai quanto vorrei Ah qua Per esempio sotto Qua come facciamo Rompiamo Dove Sì Tutto aperto Tutto tutto Spacca tutto Spacca tutto Spacca 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 Infatti dobbiamo partire dall'alto Adesso abbiamo fatto il segno Così ci ricordiamo Quando andiamo Ah no Lì non dovevo spaccare Ho sbagliato Eh qua Esatto Ok Ecco Poi su Guarda Vedi com'è Oh Sì sì ho capito Ho capito Ho capito E si parte da sopra Ovviamente Sopra la facciamo Otto tre pure sopra Tiè guarda che mega miniera Eh che ne pensi? Ok Sì sì capito Ho capito Fino sopra Fino a dove sto io Poi si può anche alzare Di più Però vabbè Dobbiamo partire dall'alto Quindi decidiamo Che questo è il tetto E via Eh che ne dici così? Sì 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 Per illumina tutto Ci vorranno tipo Le fanta torce Mettiamo le torce Ogni entrata Eh sì Però sono quelle No però no Sì sì ho capito Vedo come cosa intendi Ma è figo da vedere Aspetta qui poi ti fermi Giusto perché No è il massimo Trovi ogni minerale esistente Non puoi Non puoi emissare niente così È il miglior modo Di scavare assolutamente In minecraft Non puoi Aspetta Ah ok Di fare ancora un tetto Un lato O sbaglio No qui continui Questo è l'inizio Vai si continua Si scava qui Dritto Per di qua Scava Ok più o meno Facciamo tre blocchi No 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 tre blocchi Spacca tutto Pure al centro Tutto Spacca Spacca Sì aspetta Spacca 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 Ci troveremo prima o poi Quello è importante Capito E qua continuiamo il tunnel Andiamo fino in fondo Ah di qui si continuano Normalmente Sì dritto per dritto Testa larghezza E poi se vogliamo scendere Scaviamo dritto per di qua Come abbiamo fatto il sorco prima Si c'è del ferro Non te ne so C'è tutto Saremo strapieni Di minerali Di tutti i tipi di minerali Ok perfetto Ti buono Ho detto che Mi sono 300 blocchi di ferro Se voglio fare Una mini Ah ti sono fatti pure i conti Sì sì Bravi 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 ragazzi 300 blocchi di ferro Ragazzi Che ne pensate di questa miniera A me piace tantissimo Ok finissimo Ecco viene una cosa di genere Vedete A tre piani E' tutto buio Perché c'è la bedrock Ma vabbè Non ci frega niente Eh vabbè Quella normale Non posso farci nulla Eh voglio dire si potrebbe fare qualcosa C'è una moto Si potrebbe mettere la tipo la optifine Che ne dici La optifine la toglie? Eh sì la optifine la toglie Beh ci buttiamo la optifine in mezzo E togliamo la cosa magari Ma c'è anche una cosa chiamata no fog Si mette stanto nel client Quindi possiamo tenerla Anche? Perché no Certo Va bene Non è una cosa che cambia il gioco Ah sì? Ok Ficata Oh 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 Oddio pensavo di morire Ho visto il nero Mi sono spaventato Ti ho un cuore in gola Di respiro Eh sì Ok Mi sono preso un infarto Ho visto il nero Ho detto ecco là Sono morto Invece non era da vedere Va bene Facciamo così? Eh? Facciamo così? Così cosa? Vuoi ripassare tutte le pareti? Ah ah ok Stai mettendo le scalette No così Giusto per salire Giusto 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 Avrò più una miniera Facciamo Death miniera Mamma mia Ok È giusto sì Perfetto Uh che figata Ok non ho manco preso le torce Fai te Ce l'ho io Ce l'ho io Sto strapieno Allora dicono Ho preso le torce Da discruggere insomma Ok Eh allora siccome Aspetta deve essere alternato Però una sopra Una sotto Una sopra Ah questa va qui Il prossimo miniera Qui Ti faccio i segni Le miniere vanno a tre blocchi Di distanza Uno dall'altra Quindi uno due tre Qua ok Eh sì quello so Tre Perfetto Ok Così Che tu puoi andare Da una parte all'altra E poi Ok Troverai sempre Perfetto ok Uno due E così per ogni piano Uh uh diamante 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 Eh aspetta aspetta Allora facciamo Tutta la roba che vale tanto Ce la dividiamo a metà Quindi sia il diamante Il ferro Il coso Tutto diviso a metà Oh bello Quali diamante ho trovato Dieci Parecchi Eh otto Oh merda Tieni Prendine quattro Un due tre Votto 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 Quattro sotto Ok Tutto quello che troviamo Diviso a metà Tutta la roba rara Poi il carbone Il redstone Quella Chi se ne frega Chi la trova La trova Ma finire è molto Nel genere Non ci parla Non mi interessa Io lo faccio Nel mezzo Invece Vogliamo distruggere tutto Ah per esempio Se continua Si se vuoi tu Esatto si Però dall'alto cominci Abbiamo iniziato dall'alto In modo che Possiamo arrivare sotto Iniziare da sotto Sarebbe un po' assurdo E ho rotto pure Sto piccone Non è possibile Non ci credo mai Non ci credo mai Il ferro dov'è Devevo farci Non è un chatting Tevole Infatti Quindi Si dà una Sarebbe un'ottima idea Allora Quindi si è stato Uno due Tre blocchi E questa è un'altra miniera Perché è un sacco Cioè abbiamo Un sacco di roba Nel effetto Questa è un'altra miniera Ma più che altro Livelli Livelli Troppi Troppi livelli Guarda come deve venire Vedi Eh aspetta Mamma mia che figata Un due tre Qua Ok Poi l'ho messa Alternate Vedi l'ho messa Centrale Con questa Guarda come l'ho messa Te dico Fermate Rompiamo qua Rompiamo Che siamo a posto Poi E fiamocci qua Tanto poi Questa faremo Pian piano La faremo E questa Questa la considero La mia terza casa Ragazzi Non mi interessa Questa è la mia miniera Eh esatto C'è la mia terza casa Ho rotto C'è la stone Si ce la dovrei avere Due blocchi lì Mi sono dimenticato No questa non è stone Dov'è la stone L'ho finita Ho finito la stone Eh ce l'ho sopra Ce l'ho io E andiamo sopra A prendere la stone Che ci frega Io saluterei qui comunque Ok perfetto Va bene Se mi piace questa miniera Ho mettito un bel pollice in su E siamo dei pollici Pollici grabber Basta Oh mia che pollici grabber Veramente mi faccio schifo Redstone Si Però vi sei facendo I episodi anche con Xander Visto che mi ha silato Ogni giorno Ulisse fai l'episodi con Xander Ulisse fai l'episodi con Xander Ti voglio bene Ulisse Nel senso Ok si Disperazione Perfetto E la cazzo in tavolo Questa la mettiamo però Da qualche altra parte Non qua Mettiamola Boh Qua Do te pare Ma che Qua Qua facciamo fornaccio Qui si faccia un muo Centrale Ok ok Solo quella centrale Ok ci sto Va bene Io saluterei Ragazzi ci vediamo nel prossimo video Con questa mega miniera Che ormai non è più pixel Ma è diventata la mega miniera Ormai Esatto Cambiato argomento Lo sai invece la cambierei La parte sopra Ulisse Metterei quella unibile Questo strato sopra Perché Qui è dove cammini no? Quindi deve essere fatto Di un materiale diverso Di quello dalla parete Giustamente no? Ah beh Si vuoi si Infatti c'è ragione Ti faccio vedere Mettiamo questa qui Prova a metterla Oh si Ok Eh si si Eh 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 Ok si si Perfetto Mamma mia Mamma mia Mamma mia E' bello che Non stiamo usando Materiali espriziosi Cioè ragazzi Cobblestone questo Cobblestone Si proprio bellissimo Cobblestone che bellissima Con la Ciselle puoi Con la Ciselle puoi Amo la Ciselle Eh Scusa Che hai fatto? Ora che sta a dirti Ah si l'ho vista Io ho Cisellato Invece di prendere una stonda Vabbè dettagli Oh si dai Non la Ciselle puoi Va bene Io saluto ragazzi Ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao ciao